gemelli bivi 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 quanti bivi ci sono nella vita quante scelte da fare ed eccone un'altra ecco che questa settimana ci troveremo un bivio probabilmente un bivio che tra l'altro ci indica più di due strade possibili ce ne indica diverse strade possibili ed ecco che sarà qui che dovremo prendere la nostra decisione ciò che le carte ci consigliano è di stare attenti a fare in modo che il nostro passato non ci trattenga non lasciamoci condizionare dal nostro passato lasciamolo lì dove piuttosto invece andiamo avanti e concentriamoci sulla strada che decidiamo di intraprendere per quanto riguarda le relazioni beh il consiglio è proprio quello di esprimere l'amore di lanciarsi e di fare il primo passo se necessario senza avere paura prendiamo quindi la scelta che sembra più giusta per noi e andiamo avanti fino in fondo